al salutatore ecco qui a brevissimo incontreremo il famoso VATE eccolo ciao VATE io sono il salutatore salutiamo tutti i tuoi fans ecco il web salutiamo i follower buona giornata a tutti quanti ma sto capitano che dice sto capitano? il capitano è grande è grande però non ci ha invitato a noi come è questa cosa? no infatti è truccato male con i confinoni c'erano pure le bombe su Italy abbiamo detto ieri sera in diretta abbiamo sentito e abbiamo qui anche Mirko Pontesilli e Amerigo Amerigo noi casualmente ci siamo incontrati tutti e quattro sembriamo i quattro moschettieri Atos, Porto, Saramisa e D'Artagnan appunto buoni e devo dire che gli incontri fortuiti gli incontri casuali i grandi progetti nascono dalle banalità giusto? assolutamente per cui la nostra è una banalità è un gioco scherzoso ed è il primo tassello per costruire questo grande castello speriamo che sia un castello dorato e un castello fortunato ecco perciò cominciamo a mettere tanti mi piace visualizzazione condivisioni cioè dobbiamo andare a bomba noi i mi piace non ce li compriamo infatti ce ne abbiamo tre quattro che adesso i nostri quello del Vate non li ha manco uscito tanto bene però insistiamo insistete ma una cosa mi dovete spiegare cosa cazzo stiamo facendo qui che io non l'ho appresa questa cosa vabbè Mirko tu non devi apprendere io non conosco il Vate Mirko tu non devi apprendere tu devi seguirmi devo eseguire tu devi essere la mia ombra ecco allora da questo progetto tutti e quattro i quarto moschettieri possiamo chiamarle così questo progetto ok i supereroi fantastici quattro non diciamo nulla non sveniamo nulla ma abbiamo un grande progetto televisivo addirittura sui telefonini sui web dappertutto dappertutto per tenervi compagnia per alietare i vostri momenti di solitudine di sconforto cerchiamo di regalarsi gioia gioia dal fiume e buttate esatto detto così ponte da riccia prima il siglio del ponte da riccia che è famoso per queste cose approfittiamo allora facciamo qualche saluto al volo al volo salutiamo chi salutiamo salutiamo Fiorello che c'è niente però noi lo salutiamo perché c'è niente ciao Fiorello poi salutiamo Maurizio Costanzio ciao Maurizio poi Maria Decevilli ciao Maria ciao ciao poi Francesco Totti salutiamo di nuovo grande capitano ciao però Vito ciao grande Francesco oh amico guarda è passata una signorina a gradevole ho capito ho capito dopo quando si lavora bisogna essere seri ragazzi seri e professionali prima il dovere e poi il piacere poi il piacere ma io ho capito qual è questo che lavoro dobbiamo fare ancora ho capito non devi parlare perfetto allora noi salutiamo tutti quanti ecco Niki Giustino che fa il disturbatore anche quando non lo deve fare era Niki che ci chiamava noi salutiamo pure Niki Giustino e chissà che non vedete anche lui esatto che c'è niente va bene ok ciao aspetta aspetta Angelo J grande Angelo J vi aspettiamo ciao